come famiglia salesiana di una ispettoria o si trovano i salesiani operatori, si trovano altri gruppi, ma è la prima volta che hanno detto che ci troviamo qui come tutta la famiglia salesiana dell'Asia Sud. È un momento veramente storico e una grazia del bicentenario della nascita di Don Bosco. Voglio dire che veramente anche con la stanchezza del viaggio e perché siamo arrivati quattro giorni fa, 17 giorni nell'America, ma mi ha piaciuto tanto tutto quello che ho sentito due ore fa. I have come from very long trips to in South America, we are very tired because we reached this morning, but I must say that I have really enjoyed seeing so much of variety here on the stage in your midst. I want to offer you a very small reflection. Carissimi, prima di tutto dobbiamo essere coscienti che abbiamo una bellissima e ricca famiglia religiosa, la nostra famiglia salesiana nel mondo. Una ricca famiglia dove questo grande albore iniziato per lo spirito con Don Bosco ha oggi 30 frutti. ma è vero che come in tutta la famiglia i figli non siamo nati tutti allo stesso tempo, sino nel tempo, in questi 150 anni. sappiamo bene che come lo stesso Don Bosco sono nati i Salesiani di Don Bosco, figli di Maria Auxiliatrice, Salesiani Cooperatori, diciamo oggi, e associazioni di Maria Auxiliatrice, come diciamo oggi. Gli ultimi dei nostri fratelli e sorelle sono nati alla nostra famiglia qualche anno fa. l'ultimo stato nato era 4 anni fa. Seconda cosa, dobbiamo essere coscienti per capire molto meglio della diversità tra tutti i fratelli e sorelle della famiglia. La seconda cosa è, ovviamente, che dobbiamo accettare e capire il fatto che i bambini diversi sono diversi tra loro. Alcuni, alcuni siamo religiosi e consacrati, altri siete laici, altri di istituto di vita secolare. Alcuni di noi sono religiari, alcuni di noi sono leisi, alcuni di noi sono stati dei instituti secolari. Vuol dire che è molto grande la nostra diversità e anche per questo la grande ricchezza. Perchè ho detto tutto questo? Perchè ho sentito nel dialogo che un punto molto sensibile è veramente i rapporti tra di noi, tra tutta la famiglia salvestriana. Perchè ho detto tutto questo? Perchè ho trovato nella discussione della discussione che ci sono delle difficoltà in relativo tra i gruppi. Io vi offro, secondo me, secondo la riflessione e quello che pensiamo, tre criteri che sono buoni per aiutare veramente alla nostra famiglia per il futuro. Perchè ho trovato tre criteri che possono aiutare nella famiglia. Prima, soltanto sarà possibile la vita di tutti i fratelli e sorelli di questa famiglia quando c'è il rispetto. Vuol dire che il rispetto è una bellezza tra tutti noi. Il rispetto significa valorare a ciascuno, ciascuna dei membri della nostra famiglia. Secondo, più al di là delle differenze nelle nostre famiglie tra i fratelli e sorelle, quello più sacrato è l'affetto e l'amore tra di noi, questo di volersi così bene. E per ultimo, una parola che non ho sentito, ma che credo sia molto molto importante. Dobbiamo sempre prendere cura e crescere nella comunione tra di noi, comunione, comunione, più al di là della diversità, comunione. Per ultimo, per finire e andare a cena. Credo sia importante una cosa che ho sentito. Sempre avremo cose belle e a volte difficili se noi soltanto guardiamo nelle persone, perché le persone siamo come siamo. Allora, qual è il punto veramente della comunione? Soltanto la simpatia tra noi o qual è il punto veramente importante per la nostra comunione come famiglia salesiana? Qual è il punto veramente importante per la nostra comunione come famiglia? Qual è quello che è? È solo un tipo di buon sentimento o c'è qualcosa di più? Il punto centrale è la missione. E questo è veramente quello più importante. Noi, con tutta la singolarità di ciascuna ciascuno, abbiamo la stessa missione nella Chiesa e la stessa missione ricevuta del carisma che condividiamo. Questo è molto importante. Quindi l'importante, il punto centrale, il punto centrale è la missione. Abbiamo la stessa missione nella Chiesa e abbiamo la stessa missione nella famiglia. Per ultimo, voglio dirvi veramente, credo, è una bellezza questo slova Rema Eletto. Una famiglia, una missione. Una sola famiglia, una missione. Questo è buono per tutti noi e per tutto il nostro mondo salesiano. Grazie. Questo slogan che avete chiesto è meraviglioso. Una famiglia, una missione. Questo è buono per tutti noi. Questo è buono per tutta la famiglia salesiano. Grazie. Soltanto una cosa, basta di riflessione e aggiungo questo. Noi possiamo esprimere parole, teorie, pensieri. Ma vedete, questo anno abbiamo vissuto un momento unico, unico e storico nella storia della nostra famiglia salesiana. Possiamo dire molte parole, possiamo avere molte teorie, ma dobbiamo dire grazie perché questo anno abbiamo avuto un momento molto speciale, molto storico nella nostra storia. Alcune delle persone siamo presenti qui perché parlo del nostro incontro a gennaio, 31 gennaio, 1 febbraio, per dirlo in alcuna maniera tutti i capi, tutti i responsabili di tutti i nostri gruppi della famiglia salesiana del mondo. Abbiamo lavorato 28, del 30, 28 dei responsabili, maggiori di la nostra famiglia salesiana. Mancavano soltanto due, il padre fondatore di Kansaonova per malattia e una superiore generale di un gruppo della India che avevano il capitolo generale. Tutti gli altri eravamo presenti nella Basilica di Maria Auxiliatrice e per esempio facendo preghiera attorno a Don Bosco. Potete immaginare cosa significa trovarci insieme noi 28, pregando una sera, intorno alla urna di Don Bosco e dicendo di nuovo siamo noi, siamo tuoi figli e figlie. e ti offriamo la fedeltà di tutta la tua famiglia al servizio della misione dei giovani, specialmente di quelli più poveri. e per questo che mi chiedo, non è vero che abbiamo una bellissima famiglia salesiana nel mondo? e non è vero che abbiamo una bellissima famiglia in questo mondo? Aspetto al risposta? Grazie. Grazie. Buona notte a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. i partecipanti come souvenir